apriamo direttamente lo spazio alle domande prima di aprire il buffet presento ancora brevemente il nostro materiale esposto in più c'è un'iniziativa, ce ne sono diverse, non è la nostra ma questa chiede la responsabilità in materia di telefonia mobile la possono firmare tutti quelli che hanno diritto di voto si tratta della responsabilizzazione degli autori di danni a persone e cose causati da impianti di telefonia mobile quindi è veramente in tema adesso passo la parola a voi per le domande non richiedo di potervi filmare ma per la registrazione della voce sarebbe comodo se chi pone una domanda la pone nel microfono quindi fino a un certo punto posso venire da voi però non ho cavo illimitato ho una domanda un po' tecnica all'ingegnere lei ha detto che in America hanno già introdotto questa frequenza millimetriche è corretto in America hanno già il 5G e il 5G americano ha già delle frequenze fino a 99 gigahertz allora mi sono chiesto ma non ci sono già allora in America dei casi dove la gente non può più vivere perché è bombardata da queste radiazioni è quello che mi chiedo allora ci dovrebbe essere già un effetto pratico concreto concreto come l'effetto che lei ha vissuto con l'antenna 4G allora mi chiedo in America non si sta muovendo qualcosa o in Cina non lo so ha detto lei che in Cina stanno facciando le antenne allora in America si sta muovendo molto nel senso che sono più avanti dal punto di vista tecnologico faccio una premessa tecnologica hanno bisogno di frequenze molto più elevate perché hanno una densità di popolazione molto più elevata dunque devono raggiungere molte più persone in un ambito in una superficie molto più ridotta ecco perché utilizzano questo tipo di frequenze ripeto noi arriviamo fino a 3,2 attualmente loro fino a 99 dunque loro utilizzano già di fatto una tecnologia militare pienamente largamente diffusa su tutto il loro territorio effettivamente ci sono diverse associazioni in America che si sono creati e sono molto attivi specialmente sui smart meter e su questa nuova tecnologia perché gli effetti si fanno sentire molto più velocemente da loro che da noi dunque loro sono un po' più avanti purtroppo a livello tecnologico un'altra domanda sulla Nuova Zelanda la Nuova Zelanda abbiamo sentito che non hanno accettato il 2G allora sono sempre all'1G so che non si trattava del 2G ma si trattava dei valori limite non so come oggi quello che ho trovato è che nel 96 appunto hanno rifiutato i valori limite dati da questa ICNIRP perché infondati anzi criminali si potrebbe dire quindi il valore limite è il in Svizzera è sull'intensità di campo giusto sui volt metro in Svizzera abbiamo abbiamo sentito il valore limite è di 6 volt metro in Nuova Zelanda non so come oggi però questo così era nel 96 quello che ho detto grazie adesso voglio solo fare un piccolo mio pensiero io sono qua a Poschiavo e alcuni anni fa dieci anni fa ho avuto la fortuna di trovare un lavoro da Basilea io sto a casa mia e mi guardo la mattina le pecore vicine del vicino che pascono e io posso lavorare tramite internet allora dico per me è qualcosa di bello perché posso vivere qua nella nostra valle però lavoro outsourcing o come si chiama questa cosa qua dunque secondo me queste tecnologie vanno bene a Poschiavo penso che lo sapete abbiamo fatto il progetto Poschiavo negli anni 98 1998 fino al 2000 era veramente questo di portare queste tecnologie in una zona periferica come possiamo utilizzarle queste tecnologie per me questa cosa è una cosa positiva perché posso lavorare qua ho la mia qualità di vita o faccio il mio lavoro in questo senso adesso questo questo si mi fa paura perché questo qua a livello proprio fisico poi queste sensibili non sensibili tutte queste qua ci può portare veramente a questo inquinamento fino a quanto possiamo vivere con queste tecnologie quando lei ha parlato della luce io pensavo le fibre ottiche le fibre ottiche anche in fondo non dovrebbero avere degli effetti negativi perché è la luce che passa attraverso questi fili allora la fibra ottica non è una tecnologia wireless dunque è via cavo dunque la vera innovazione sarà portare questa tecnologia via fibra ottica o via luce ma via E3 dunque via con l'i-fi però per rispondere alla domanda di prima è chiaro che se la tecnologia è al servizio dell'uomo effettivamente ne diventa un vantaggio cioè ne possiamo approfittare tutti e così deve essere dunque tecnologia al servizio dell'umanità ha sicuramente gli effetti positivi l'uomo al servizio della tecnologia lì la cosa cambia dunque sì sono effettivamente convinto che il 4G vi ha portato molto per voi personalmente anche per poter giustamente lavorare nelle valli no non sono convinto che il 5G possa fare altrettanto lo dico chiaramente ma la scelta non è mia è vostra dovete scegliere voi quello che non è ancora stato detto ma forse mi è sfuggito è che in Cina per esempio le donne che sono in attesa di un bambino devono essere per legge lo Stato impone di schermarle eh di schermarle perché ci sono dei problemi per il nascituro e sono problemi di infertilità il nascituro se la madre non si scherma durante la grazia avvidanza adesso non mi ricordo più per quanto tempo nei primi cento giorni il bambino che nascerà sarà infertile quindi questa è una roba risaputa e certa perché c'è una legge che impone questa cosa ecco è nuovissima ecco in più io ho visto ultimamente che c'è un progetto in Cina per una costruzione di una città foresta cioè quindi una città in grado cioè una città enorme in grado di riassorbire il CO2 tramite tutte le piante che sono messe dentro che sono messe dentro anche nelle costruzioni stesse cioè tu tu vedi questi palazzi e vedi praticamente un manto verde dappertutto quindi riassorbono il CO2 riassorbono le polveri fini ma è completamente cablata una città in Cina dove hanno il 5G nuova prevista totalmente cablata questo ci deve dire qualcosa hanno imparato qualcosa anche perché appunto ne abusano di questa tecnologia cioè in Cina o il cinese o il popolo cinese non riesce a vivere senza telefono fanno tutto tramite il telefono cioè è parte integrante di loro ecco che avere un abuso così di questa tecnologia porta inevitabilmente a dei problemi abbiamo anche dei casi che sentivo quando ne parlavo nel gruppo di nostri parenti che sono andati in Cina per studiare per fare dei master e sono successi delle cose molto strane cioè giovani che perdevano i capelli giù là improvvisamente cose stranissime dunque effettivamente non è che ci abituiamo subito a un'esposizione ancora più elevata di queste onde elettromagnetiche non è detto che sia legato solo a quello però in Cina sta succedendo qualcosa che qua ancora non sta succedendo io voglio dire questo e stanno effettivamente prendendo delle misure d'accordo? aggiungo anche magari per completare la domanda di prima non ci sono già dei casi di persone che che subiscono a causa dell'elettrosmog ci sono delle sentenze di tribunali un caso diventato abbastanza famoso in Italia è quello di Innocente Marcolini un manager che telefonava per ore e ore durante per lavoro con telefonino con telefono senza filo era esposto costantemente a un'elevata emissione di radiazioni ha avuto un tumore al nervo trigemine è stato interessante che l'INAIL gli ha riconosciuto l'indennità per questa malattia da lavoro è finito cioè prima non lo voleva riconoscere poi lui ha fatto come si dice ha fatto ricorso è finito in tribunale al tribunale alla corte di Brescia hanno riconosciuto che questa malattia è causata dall'utilizzo di apparecchi che irradiavano non ricordo bene per quale motivo comunque la cosa poi è passata addirittura a Roma al altar e anche lì hanno confermato questo e nella sentenza è interessante perché il giudice ha sorprendentemente analizzato o preferito gli studi indipendenti dall'industria indipendenti da chi fa i soldi e in questi studi viene parificata l'esposizione alle radiazioni del telefono nell'ufficio alle radiazioni ionizzanti di Chernobyl di Hiroshima qual è il problema è la durata dell'esposizione al momento dello scoppio di una centrale atomica di una bomba atomica la radiazione è immensa è fortissima intensissima quella del telefono no ovviamente non è che crepi quando accendi il telefono però se sei esposto così a lungo andare subisci le stesse cose come chi è esposto alla radiazione ionizzante interessante questo in una sentenza dall'Italia negli Stati Uniti c'è stato un processo durato anni c'è un film che lo documenta il film si chiama Thank you for calling grazie che telefoni è molto interessante un giornalista investigativo ha prodotto questo film nel quale mostra come il tribunale di Washington DC ha riconosciuto alla fine dopo anni di dibattito avanti e indietro l'industria portava le sue lui portava le sue ha raggruppato ricercatori internazionalmente per portare le prove in tribunale e alla fine ha vinto contro l'industria poi per un motivo o per l'altro ovviamente adesso sono passati diversi anni l'industria c'è ancora con i suoi 17 bilioni di dollari all'anno qualcosa così e gli affari che fanno ovviamente anche nonostante una sentenza in tribunale persa continuano è triste è scandaloso quindi ci sono prove schiaccianti altre domande? ringrazio per la serata e grazie per le informazioni volevo solo ancora accennare una cosa queste informazioni a chi interessa si trovano anche come avete trovato voi quei studi non si premono neanche di nasconderli la domanda è quanto ce li lasceranno ancora liberi anche di proteggere l'uso libero di internet perché le cose oggi le troviamo non so quando tutto sarà smart e sanno che ci interessano certe cose faranno sparire sarà molto più difficile poi trovare l'informazione e cercarla l'altra cosa adesso i rappresentanti del comune sono andati i smart meter io non sono tanto propense c'è in discussione in comune di metterli contatori elettronici per la per la corrente quello anche sono tutte onde informazioni che vanno e vengono grazie grazie quello che effettivamente è un problema in america sono tipicamente questi smart meter sono questi contatori intelligenti necessari dal punto di vista tecnologico per giustamente fornire dati di consumo in tempo reale ogni quarto d'ora in america giustamente legata a questa estensione geografica i loro smart meter sono estremamente invasivi dal punto di vista biologico dunque hanno emettono dei segnali estremamente potenti perché devono raggiungere una lunga distanza e dunque arrivare fino all'antenna prima cosa seconda cosa sono tanti abitanti dunque cos'è che succede in america non c'è un appartamento un contatore no c'è un edificio e 64 contatori tutti raggruppati nello stesso punto chiaramente chi è vicino chi dorme lì in zona o nelle immediate vicinanze ha seri problemi cioè non riesce più a vivere lì è immediato dunque tipicamente gli smart meter è già da inizio anno 2019 che creano problemi in america dunque il 5G è solo arrivato un po' dopo però già lì hanno avuto i primi problemi sono molto attivi giustamente sugli smart meter sul 5G propongono già delle soluzioni per schermare un po' il contatore intelligente che comunque lui continua ad emettere ecco sì allora la domanda è appunto che differenza c'è tra l'utilizzo di uno smartphone e le cuffie allora io ho elencato effettivamente qua diversi consigli per diminuire l'elettrosmog al numero 2 appunto c'è la distanza al tuo amico questa è appunto l'informazione che comunichiamo ai ragazzi c'è effettivamente una differenza che è la distanza il fatto di avere lo smartphone il fatto di avere lo smartphone direttamente all'orecchio vuol dire che ho un'emissione e una recessione di campi elettromagnetici ovviamente digitali nelle immediate vicinanze del corpo e dunque del cervello d'accordo mentre se ho il telefono qui e magari utilizzo delle cuffiette un po' particolari come queste che faccio vedere dunque delle cuffiette che hanno effettivamente un suo connettore hanno il cavo e poi c'è una parte effettivamente in aria c'è un tubo d'aria dunque queste qua sono praticamente tubeless dunque hanno un segnale elettrico che arriva fino a qua vi faccio vedere sono anche molto pratici dunque hanno un segnale elettrico che arriva praticamente fino a qua e dunque le radiazioni quasi fermano ecco che con questo sistema si può telefonare meglio c'è una recessione migliore e non ho un segnale elettromagnetico direttamente qua vicino quindi ho telefoni giustamente anche per i ragazzi in viva voce ok se puoi magari non è molto pratico perché tutti sentono capisco davvero ok ma sicuramente non attaccato non attaccato effettivamente al cervello la possibilità appunto è con delle cuffiette di questo tipo esatto ok sono meglio però tieni presente che comunque il segnale elettromagnetico arriva fino a qua sono meglio che avere il telefono d'accordo perché effettivamente la sorgente è più lontana però comunque hai un campo elettromagnetico ancora fino a qua minore ma ce l'hai dunque si la cosa migliore è effettivamente quel tipo di cuffiette seconda possibilità è viva voce la terza possibilità è in modo decrescente le cuffiette appunto normali e la quarta la peggiore è avere il telefono qua le intendi le cuffiette bluetooth ok ma sì ok cuffie sì per ascoltare la musica ma con con o senza cavo ma con il cavo allora per ascoltare la televisione sì boh diciamo se se la sì appunto se cioè se lo colleghi direttamente al televisore non hai non hai una trasmissione in alta frequenza dunque va direttamente tramite il cavo dunque da quel lato lì è migliore il problema giustamente è quando hai il sistema bluetooth dunque hai una frequenza in più che si aggiunge dunque un campo elettromagnetico più elevato dovuto a una frequenza che si aggiunge giustamente è il posto migliore per tenere il telefono mentre telefono con le cuffie ecco anche lì in tasca anche lì c'è una scala quello che si dice sempre la distanza è il migliore è il tuo migliore amico stupisco sì allora lo dico il telefono nella camera da letto no fuori quella è la soluzione migliore chiaro che più si avvicina al telefono peggio è se proprio proprio dovete scegliere diciamo il male minore dovete tenere il telefono è qua dietro dunque in tasca non davanti ma dietro perché è dietro perché qua abbiamo effettivamente muscolo poi abbiamo il bacino e poi abbiamo degli organi dunque da quel lato lì è il male minore ecco se è possibile però anche lì fateci caso adesso non so quanti di voi hanno qua il telefono io di solito lo tengo così dunque modalità aereo adesso non l'ho bisogno dunque non deve trasmettere quando vedo i telefoni dei ragazzi hanno il trasmissione dati attivata è quella verde ok scusate un attimino che adesso sta cercando giustamente ok adesso la trovo hanno trasmissione dati attivato il bluetooth attivato e il wifi è attivato serve? no ma è attivato è pratico certo che è pratico ma non ha senso cioè dovete davvero immaginarvi come anche esatto come lasciare la macchina accesa in garage o come lasciare la luce accesa quando non avete bisogno lo so che è pratico mia moglie ci litigo ogni giorno perché? perché non vuole spegnere il wifi e il bluetooth ogni volta infatti il telefono non è che l'abbiamo in camera ce l'abbiamo in bagno ma così quando io vado vado a nanna ok trovo il telefono mia moglie così in bagno allora cosa faccio? devo disattivare il telefono no? su modalità aerea ok ma poi c'è ancora il wifi attivo dunque devo andare in impostazioni lo faccio vedere vado in impostazioni e devo spegnere manualmente sia il wifi ok che è anche il bluetooth e poi effettivamente in teoria non ne mette più in pratica ne mette ancora perché? perché anche il telefono spento così emette ogni tanto ancora e va alla ricerca del segnale per spegnerlo completamente dovete togliere la batteria eh sì è fatto cioè questo apparecchio è fatto per trasmettere delle informazioni preziose i vostri dati è fatto per quello non è fatto per voi è fatto per quello è concepito per quello ok dunque lì questo dispositivo è stato giustamente concepito ideato studiato brevettato per trasmettere i vostri dati in modo più affidabile sicuro e veloci chi dovesse per forza avere uno smartphone e volesse comprarne uno nuovo abbiamo sul nostro sito stop5gtcino abbiamo tra i link un sito dove si può confrontare il livello SAR di quasi tutti i cellulari in commercio viene attualizzato costantemente quindi si può fare si può scegliere in categorie vengono assortiti in categorie A, B, C, D dal meno radiante al più radiante poi si può guardare quale modello si riesce a trovare in quale negozio però si possono comprare cellulari che sono meno meno nocivi riguardo alla cosa detta prima di tenere il telefono all'orecchio citavo l'ultima volta alla penultima conferenza Paolo Orio in Francia sono stati mandati in discarica al macero centinaia di migliaia penso di cellulari perché i valori SAR non corrispondevano effettivamente a quello che emettevano dunque telefono all'orecchio questi valori SAR sono stati misurati non attaccati cioè come telefoniamo noi di solito ma a due centimetri di distanza ok dunque effettivamente aumentando raddoppiando la distanza il valore diminuisce di quattro volte si chiama SAR gate purtroppo nessuno telefona col telefono a due centimetri giusto ecco però c'è scritto sulle istruzioni se sono incluse nell'acquisto sono sul telefonino a volte cercarle altre domande io avrei più una domanda pratica perché anch'io io faccio parte del legislativo e ho visto la domanda di costruzione appunto che ha pubblicato una compagnia di telefonia per la posa di un'antenna qui in paese naturalmente c'era scritto solo posa di un'antenna non c'è scritto 5G non c'è scritto niente già questo mi ha incuriosito cioè volevo sapere ma ho pensato naturalmente questo è il 5G ho chiesto delle lucidazioni mi è stato detto sì che si trattava del 5G che però il comune non aveva troppe che era in fondo una questione che riguardava la confederazione che il comune non poteva fare troppo però ecco anch'io allora ho chiesto ma perché come comune non scegliete visto che sembra che questo 5G deve arrivare perché non cercate voi un'ubicazione più lontana e proponete questa perché se ci lasciamo imporre da queste compagnie le ubicazioni alla fine subiamo come dite voi subiamo e niente di più e poi mi sono chiesto altre cose in fondo la confederazione ha distribuito queste concessioni a tutte e tre le compagnie per cui ciò vuol dire che sarà tre volte cioè tre volte più antenne perché non penso che una va a affittare l'antenna dell'altra compagnia e poi sono anche venuto a sapere che per esempio il comune di Cazzis ha dato la concessione a una compagnia sola e ha obbligato le altre ad affittare questa antenna e questo mi sembra per esempio una bellissima mossa per limitare almeno in modo che invece di averne tre forse ne hanno una sola in paese e poi appunto ci sono tutti quei comuni che continuano a raccogliere firme per questa moratoria però appunto sono tutti interrogativi che al giorno d'oggi nessuno mi sa rispondere il comune si dice che ha le mani legate che non può non può far niente ecco mi piacerebbe sapere come la pensate voi purtroppo non è venuto con noi nessuno del gruppo giuridico brevemente pubblicità per il gruppo stop 5g chi volesse aiutare abbiamo vari sottogruppi che si occupano di diversi temi abbiamo il gruppo che si occupa delle questioni legali quindi se avete domande assolutamente scriveteci dal nostro sito c'è il nostro indirizzo email potete scriverci per la questione delle antenne affittate se ricordo bene era così fino a qualche anno fa fino al 2014 e da lì in poi ognuno doveva avere la sua quindi per avere la connessione sunrise ci vuole l'antenna sunrise Swisscom ci vuole quella Swisscom per quella salt ci vuole quella salt il comune ha le mani legate i cantoni hanno le mani legate e la confederazione che ha determinato questo ciò nonostante ci sono interi cantoni interi comuni che hanno deciso da noi niente antenne finché non viene chiarita la sicurezza diciamo così in parole povere quindi impossibile sembra che non sia non so poi che contromisure possano essere prese non sono un legale io in ogni caso non so bene come qui mi sembra che sia anche così da come ho sentito avete già raccolto firme per fare delle opposizioni a delle antenne la popolazione nei comuni senz'altro può fare qualcosa può fare opposizione alle domande di costruzione per questo noi nel gruppo Stop 5G abbiamo il sottogruppo che si occupa degli albi comunali perché ogni comune quando riceve una domanda di costruzione la deve pubblicare da noi mi sembra che 14 o 15 giorni nel tempo in cui gli abitanti del comune o gli abitanti che sono nel raggio d'azione dell'antenna possono fare opposizione alla domanda di costruzione quindi senz'altro rallentare i tempi poi in caso che comunque venga rifiutata l'opposizione che è gratuita si può fare anche un ricorso poi lì ci sono costi però da noi c'è già una certa rete che si è creata di persone poi anche disposte a mettersi insieme diciamo se si devono pagare mettiamo mille franchi per il ricorso beh se siamo in due sono 500 a testa è una botta però se siamo in 20 in 30 in 40 ci sono comuni che hanno se ricordo bene oltre 200 firme per l'opposizione se in 200 ci si divide i mille franchi del ricorso beh sono 5 franchi a testa dai si può fare no e l'ultima è quella poi di finire al tribunale federale e vincere lì la causa insomma dai abbiamo abbiamo delle carte in mano non so come si può fare che il comune poi attivi la popolazione quando c'è una domanda di costruzione per poter fare una mossa così questo è legale no la popolazione può opporsi sì Mesocco ha fatto una moratoria cioè il comune di Mesocco hanno deciso per la moratoria al 5G non si costruisce non ci sono antenne non si fa niente fin quando non ci sono dei studi indipendenti che dimostrano che non ci sono pericoli quindi come Mesocco l'ha fatto possono farlo anche gli altri è un po' un gioco a scaricabarile cioè è troppo scomodo mettersi per i comuni mettersi contro la confederazione contro il cantone i cantoni contro la confederazione è uno scaricabarile in realtà queste dovranno essere decisioni politiche dovranno essere decisioni dei cittadini e della politica perché non sarà l'industria che dirà ah beh sì insomma è pericoloso ci rinunciamo loro non diranno mai questo quindi bisogna veramente fare in modo che ci siano delle decisioni politiche e la popolazione può attivarsi per questo è l'unica possibile soluzione magari vi parlo della mia esperienza personale legata appunto al mio caso dove hanno deciso di mettere un'antenna a 80 metri da casa mia l'hanno chiamata antenna di radiofonia mobile dunque noi sapevamo che nel caso specifico la radio traslocava e veniva appunto negli studi televisivi abbiamo detto che il nostro vicino con il quale andiamo d'accordo vuole mettere un'antenna radio perfetto dipendenti radio arrivano lì da noi nuova antenna radio la cosa per noi è chiara nessun problema dunque nessuna opposizione ci siamo trovati con un'antenna di radiofonia mobile a quanto pare vengono esposte così dunque vengono come dire camuffate o diciamo dal punto di vista legale vengono pubblicate così questo nel senso di trasparenza da parte della Swisscom giusto o sbagliato che sia ci siamo cascati non abbiamo fatto opposizione quella volta lì ci hanno fregato quello che è successo nel frattempo che abbiamo chiesto di ridurre i valori e ci hanno detto se non vi va bene andate al consiglio federale cambiate la legge la persona che ha detto questo non lavora più alla Swisscom nel frattempo l'antenna c'è ancora ma siamo riusciti tramite il gruppo cittadini del quale faccio parte e l'associazione dei genitori a far sì che questa antenna verrà tolta dunque sì possiamo fare qualcosa dobbiamo lottare per il nostro territorio questo perché perché se un'antenna oggi viene messa probabilmente domani non verrà tolta se oggi non verrà messa domani non ci sarà dunque quello che dicevo anche prima cioè bisogna attivarsi adesso in modo unito per il proprio territorio perché difficilmente un'antenna poi verrà tolta in futuro noi ce l'abbiamo fatta abbiamo fatto un casino della Madonna uniti giustamente con il gruppo dei genitori le mamme e quant'altro dunque oggi vengono da noi a chiederci se possono mettere 5G 6 anni fa ci hanno detto di andare a Berna a cambiare le leggi cerco di farvi capire un po' questa cosa scusa c'è l'aspetto medico cioè i medici in fondo sono in grado di fare delle diagnosi di elettrosensibilità e di trovare tra virgolette la cura perché secondo me li tocca cioè l'aspetto salute è importantissimo non si può sottovalutare in questo modo no? allora oggi sempre più medici sono in grado di poter valutare qualcosa devo però anche essere onesto e dirvi che attualmente non c'è un protocollo cioè un medico non ha un protocollo per determinare se una persona è o non è elettrosensibile so che in Italia l'associazione elettrosensibile si sta muovendo in questo modo dunque loro hanno creato un protocollo molto chiaro per poter definire un medico se una persona è o non è elettrosensibile nel mio caso specifico o oggi con la biorisonanza si riesce a definire se una persona ha una concausa ambientale una concausa legata all'elettrosmog dunque concausa vuol dire un disequilibrio il disequilibrio si può misurare con giustamente un'analisi del HRV heart rate variability dunque si riesce a capire se è più nel sistema simpatico o parasimpatico e se questa disfunzione può avere una concausa legata effettivamente a una componente elettrosmog dunque oggi per chi fa birisonanza per chi fa kinesologia e quant'altro ci sono dei modi molto sicuri per definire se la persona è o non è elettrosensibile ma non tutti i medici dunque non dappertutto devo dirvi anche una cosa nel lavoro che faccio io attualmente siamo noi che andiamo dai medici e noi curiamo i medici attraverso l'ambiente dunque sempre più anche noi informiamo i medici di questi problemi ok solo come sotto lei ha fatto degli adattamenti in casa ci sono delle possibilità portabili per quando è esposto a queste radiazioni perché l'antenna va ancora vicino a casa sì ci sono oggi sono diverse possibilità per appunto giustamente fare qualcosa bisogna capire qual è il problema da dove arriva il problema se il problema è effettivamente l'antenna è troppo vicina o è l'elettrosmog che io ho accumulato durante tutto il tempo dunque devo capire devo andare da un medico e capire qual è il mio stato di salute e qual è la mia energia vitale attualmente cioè come sono messo ok una volta che so questo devo fare un'analisi dell'ambiente e capire quanto il mio ambiente mi permette di vivere in un modo più o meno sano cioè quanto elettrosmog percepisco da parte dell'ambiente una volta quello devo sistemare assolutamente o trasloco ecco ipotesi ho una nuova antenna non la sopporto improvvisamente so che è l'elettrosmog so che devo fare qualcosa o me ne vado oppure sistemo completamente l'ambiente attorno a dove vivo col focus camera da letto cioè lì quelle 4 5 6 ore mi devo rigenerare se mi rigenero in quelle ore lì dunque se il mio corpo riesce a abbattere questo problema non ho problemi durante il giorno se e solo se dunque l'ambiente deve essere iper pulito dovete immaginarvi come una persona che soffre di come posso spiegarvi quel problema alimentare dunque una persona che è celiaca ok dunque deve completamente ridurre o meglio eliminare dei farinacei e quant'altro lì è la stessa cosa cioè nella tua camera da letto non puoi più avere problemi deve essere una zona bianca ma come può essere la zona bianca come vai al resto il cucino l'antena davanti io andavo io facevo un'ora di viaggio andavo a dormire in Italia mi ha salvato la vita però appunto non ci sono dei sistemi che aiutano a scusami ci sono dei sistemi ci sono dei sistemi effettivamente che aiutano dunque anche il fatto di dei sistemi che aiutano per diversi mesi tipo un baldacchino cioè un baldacchino è una rete tipo una rete per le zanzare che scherma da onde elettromagnetiche in alta frequenza questo ti permette di dormire in un luogo più o meno sano più o meno privo di campi elettromagnetici per un certo tempo per un paio di mesi la cosa funziona poi però devi avere comunque attorno a te un minimo di comfort perché chiaramente una rete è sempre una rete dunque anche l'aria poi comincia a farsi sentire non è il massimo non è il comfort non è ideale però è una soluzione ottima di ripiego quello sì conosco dei baldacchini io stesso ne ho uno al momento non in uso fatto in una stoffa molto più con una magliatura più larga ha una schermatura leggermente ridotta però diciamo l'aria passa non è che si è in un diciamo in una scatola chiusa ci sono quelli che schermano di più che fanno veramente il loro lavoro se sei magari elettrosensibile già avanzato per dire lì l'aria non passa così bene devi arieggiare quasi il letto bisogna trovare per ogni persona bisogna trovare il giusto equilibrio il nuovo giusto equilibrio sia a livello personale sia a livello ambientale ricordatevi quello che vi ho detto prima sui cinque pilastri dunque dovete rivedere completamente l'alimentazione completamente quello che è l'attività fisica completamente quello che è l'attitudine mentale completamente l'ambiente e gli amici quelli veri vi aiuteranno e ogni volta che avete bisogno di un consiglio saranno loro darvelo un'altra domanda riguardando il 5G un elettricista mi ha detto che non è soltanto l'antenna 5G ma ci sono tanti piccoli antenne che vengono anche messi appunto diciamo se fanno una nuova antenna una grande nuova antenna di regola viene pubblicata ci sono anche le altre nuove piccole antenne che sono quelle che abbiamo visto nei tombini li mettono anche sui lampioni dunque sui pari della luce diciamo un po' un po' dappertutto l'idea come abbiamo fatto vedere a livello di concetto è una barra due antenne ogni 100 metri dunque la fortuna che avete qua essendo un po' fuori zona ne metteranno di meno tranquilli ne metteranno di meno perché costa troppo ne metteranno di meno perché costa troppo in città invece fanno esattamente il contrario perché? perché c'è più antenne dunque il fatto di stare un po' fuori zona vi aiuterà uno perché metteranno meno antenne due perché avete una natura circostante che vi aiuta non dimenticate che quando si parla di ambiente è proprio quello che è fuori come energia che vi aiuta poi anche all'interno dunque sì metteranno più antenne ma dipende se voi siete d'accordo se non siete d'accordo allora attivatevi motivatevi unitevi magari ancora una breve aggiunta prima della prossima domanda riguardo alle antenne sì ce ne saranno ce ne sono tante fuori e ce ne saranno ancora di più con il 5G ricordatevi che come ha detto lui prima il 30% è fuori casa il 70% è in casa abbiamo il controllo sul 70% della nostra esposizione alle radiazioni se siamo in casa se di giorno siamo fuori ovviamente abbiamo il nostro influsso facendo le domande di opposizioni facendo smontare antenne e quant'altro però in casa non c'è solo il cellulare non c'è solo il telefono c'è anche il wifi il decodificatore per la tv irradia perché viene fatto così oggi la stampante irradia la radio sveglia c'è un'infinità di aggeggi già che si possono misurare si possono scoprire spegnere non è del tutto semplice però è in casa che siamo specialmente nella notte quando vogliamo rigenerarci controlliamo non ci vuole tanto controllare quali sono gli aggeggi che hanno la funzione bluetooth quali sono gli aggeggi che hanno una funzione wifi spegnere wifi spegnere wifi nel computer anche quando è acceso si può spegnere il wifi il bluetooth e smette di cercare di irradiare alla fine così anche la stampante e quant'altro questo è ancora per i consigli domanda io volevo solo chiedere una cosa se si sono accorti per esempio in America o in Cina io giro mai animali le migrazioni gli uccelli gli insetti che dicono continuano a fare polemica per ste api e poi vanno a mettere un 5G interessante sì non abbiamo parlato di questo gli animali in sostanza reagiscono similmente a noi si può dire dalle api è una cosa nota e provata che se si mette un'arnia con un'antenna wifi da parte un'altra arnia senza quella con il wifi da parte entro poco tempo si dimezza o si decima la popolazione le api disorientate non tornano nell'alveare e lasciano alla fine morire la regina e muore diciamo l'arnia sì ci sono per esempio un'altra cosa nota per esempio un'antenna che è stata posta era mi sa ai tempi del 2G o del 3G un'antenna posta sopra o da parte a una stalla a una fattoria mi sa che è rimasta più o meno per 10 anni l'antenna e in quel tempo lì povero contadino impazzito aveva mortalità aumentata aveva animali più malati aveva aborti di vitelli nascevano morti nascevano storpi quindi la deformazione proprio del del feto durante la crescita nella mucca i veterinari non hanno trovato nessuna cosa plausibile è perché l'antenna è stata smontata l'antenna è tornata alla totale normalità come era prima dell'antenna questo come paragone per il mondo animale il mondo vegetale anche ne soffre ci sono questi esempi li mostrava il dottor Zolk se andate a guardare le conferenze che ha fatto mi sa che è pubblicata quella di Tesserete di Giubiasco non so comunque le antenne quando sono a una certa distanza se ci sono due antenne a una certa distanza diciamo il campo arriva a una certa frequenza o intensità dove si sommano le frequenze quando ci sono effettivamente due antenne una distante due antenne distanti una dall'altro c'è un fenomeno di superposizione cioè in questa zona proprio i due fasci si collimano e la loro potenza aumenta notevolmente e anche i loro effetti dunque in quel caso lì vediamo gli effetti sugli alberi che formano appunto necrosi si vede appunto l'albero che non riesce più a rigenerarsi dunque c'è una parte che muore dell'albero c'è una parte che ha meno foglie dell'albero o effettivamente gli alberi che perdono completamente le loro foglie dunque dove dove la tecnologia è troppo invasiva e la natura non riesce a ritrovare un suo equilibrio ecco che il disequilibrio si nota si fa vedere sempre di più sempre no ovviamente perché la natura per natura cerca di equilibrarsi dove non ce la fa più ok come per gli esseri umani ecco che lì succede qualcosa scatta qualcosa con le antenne più grandi anche dove sono sole o più grandi più forti è interessante su quella mappa che Roberto ha mostrato prima dove si vedevano le antenne sulla Svizzera si può andare sul sito della Bacom e vedere questa mappa e cliccare le antenne e vedere l'intensità che ha c'è intensità di campo debole medio e forte non so com'è qui sarebbe una volta da guardare esatto questo però qui è forte ok quindi vicino all'antenna l'intensità è più forte delle foto che ho visto dalla Germania delle antenne che coprono una zona enorme vicino all'antenna l'albero diciamo qui è l'antenna qui è l'albero l'albero dal lato dell'antenna sembra come bruciato cioè completamente morto sul lato dell'antenna e dall'altro lato ancora del verde quindi si vede proprio netto e non è l'unico albero così ci sono raccolte di foto dove si vede questo fenomeno così sulla natura si può dire questo esempio l'emocromo cioè l'immagine del sangue o dei globuli rossi nel sangue se ci si sottrae alla radiazione per un certo tempo non so esattamente quanto i globuli rossi si vedono sull'immagine completamente distaccati uno dall'altro si muovono molto fluidamente dopo un paio di minuti di telefonata col telefonino si vedono questi globuli tutti appiccicati come dei rotolini come dei salami effetto Roulou per chi è medico conosce magari il fenomeno e ovviamente il flusso dei globuli rossi è molto ridotto quindi apporto di ossigeno ridotto ossigeno vitale viene ridotto per il corpo la clorofilla ha una struttura del sangue molto simile ha una struttura molecolare molto simile e probabilmente mostra gli stessi effetti se non ci sono altre domande io vi invito cortesemente a partecipare al rinfresco finale a servirvi al tavolo informazione se vi è piaciuta la serata assolutamente mandate il link ai vostri amici mandate il link alle persone che possono avere un influsso a cui volete fare delle domande in merito se avete altre domande per noi ci raggiungete tramite il nostro sito prendete i volantini distribuiteli se vi è piaciuta la serata e volete che ne facciamo altre date un'offerta se vi è piaciuta tantissimo aiutateci iscrivetevi sulla lista restiamo in contatto da parte nostra penso così è tutto auguriamo a tutti una bella serata e una buona continuazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti